Ma oggi sono stati bravi, abbiamo fatto la gara sin dall'inizio con la testa giusta, con la voglia giusta ma forse sul 3-0 abbiamo avuto un attimo di rilassamento, un po' troppa superficialità però non ho nulla da dire ragazzi, sono stati bravi, faccio i complimenti a te era importante portare a casa i tre punti